La nascita di un amore come la fine di un amore non sono eventi che avvengono istantaneamente, ci sono eventi che li precedono, per cui è molto importante imparare a cogliere questi segnali per evitare di trovarsi poi in condizioni spiacevoli e per avere la possibilità, strada facendo, di cambiare il nostro comportamento in modo tale da ribaltare un po' la situazione. I segnali che ci dicono che il nostro partner non ci ama più, magari lui non è ancora consapevole, però sono di diversa natura. Sono da un lato segnali non verbali, cosiddetti di rifiuto, per cui la parte emotiva ogni volta che ti vede, ogni volta che ti percepisce, emette un segnale di rifiuto emotivo, significa che emotivamente non si sta coinvolgendo. Ad esempio, li viene da raschiare. Il raschiamento significa estromettere una persona, è come se tende a buttarti fuori. Oppure, magari se sei al ristorante, tende ad allontanare oggetti, soprattutto se oggetti tuoi, significa che anche qua ti sta estromettendo, ti sta buttando fuori dalla sua vita. Lo stesso discorso per lo spazzolarsi in questo modo. Ma ci sono anche dei segnali comportamentali, ad esempio, una diminuzione di attenzione nei tuoi interessi, cosa che magari prima aveva. Quindi non si interessa più di ciò che tu fai, non ti chiede più, si dimostra un po' disinteressato. Potremmo dire che alla scarsità di attenzioni si aggiunge il disinteresse e l'apatia. E sono delle cose fondamentali che tu devi imparare a cogliere. Ovviamente non è che lui lo fa istantaneamente o, diciamo, di colpo, però lo fa, diciamo, gradualmente e gradualmente inizierà a manifestare questi segnali. Un altro segnale molto importante è quello dell'insofferente. Cioè diventa insofferente a quello che tu fai e questo appunto genera poi dei segnali di rifiuto, dei raschiamenti, tende a guardare da un'altra parte, non mantiene più il contatto oculare con te, l'hai contact, il contatto visivo. E diventa, insomma, insofferente alla tua presenza. Questi segnali spesso non vengono colti, per cui si continua nel nostro comportamento, fin tanto che la persona elabora a livello cosciente il desiderio di lasciarti a quel punto lì troncherà la relazione, per tu magari resti sorpreso o sorpresa perché dicevi non me l'aspettavo. In realtà tutti i segnali c'erano, l'importante è coglierli prima. Bene, per questo video è tutto, ti invito a seguirmi sul blog www.seduzioniv.com. Ciao!